L'assessore al personale della Regione Puglia, Gianni Stea, comunica che sono in rampa di lancio due nuovi bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 80 unità nella categoria B3. Si tratta di 60 collaboratori tecnico-amministrativi e 20 autisti specializzati. L'assessorato al personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di record, ha precisato Stea, e le candidature potranno essere presentate sul portale StepOne 2019 a partire dal prossimo 30 marzo. Per le 60 unità di collaboratore tecnico-amministrativo categoria B3 è necessario essere in possesso di diploma di scuola media e delle certificazioni informatiche ECDL e IPAS o altre riconosciute a livello europeo. Occorre inoltre lo SPID e un indirizzo PEC. Per i 20 autisti specializzati necessari il diploma di scuola media, patente C, SPID e PEC. Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi, magari dando loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle regioni del nord Italia, afferma Stea, che assicura tempi brevissimi per l'espletamento dei concorsi, offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi.